Bene ragazzi sono Arian e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo ritornati su Tuggler Totten Nuovamente su Zombie di Black Ops 4 Per questo mini easter egg che è stato scoperto qualche giorno fa Dall'americana appunto Absoluem Se volete passate link in descrizione A questo punto raga passiamo all'intro Bella Oggi siamo con Gary Bella ragazzi Da molto tempo ormai che non portavo Zombie Ma da tre giorni raga che hanno scoperto un nuovo easter egg Qua nell'ultima mappa Tuggler Totten E praticamente raga ci skipperà a round 200 Come già ho fatto su Alpha Omega Se non sapete di che video parlo ve lo lascio in descrizione Comunque per prima cosa dovete sapere come congelare in questa mappa Non dovete fare altro che buttarvi nell'acqua E aspettare che il ghiaccio appunto riempia il vostro schermo Una volta che non potrete più muovervi E solamente diciamo accoltellare Vuol dire che sarete congelati permanentemente E come vedete vi dirà premete R3 per rompere il ghiaccio O cerchio dipende se avete tassi o comunque avete tassi personalizzati Ok adesso Dobbiamo praticamente farci congelare in varie zone della mappa In totale sono dieci e adesso ve le faccio vedere pieno piano Tutti in acqua Per far funzionare questo easter egg perfettamente Dovrete essere tutti i giocatori presenti E farvi congelare esattamente nello stesso momento No non nello stesso momento per forza Bisogna farci congelare L'importante è che vi fate congelare tutti quanti quando siete nell'acqua Esattissima Come vedete non possiamo più muoverci Potete praticamente premere R3 Prima già ne ho fatto Mauri ti sei già congelato te? No Aspetta Congelati congelati Ti devi congelare finché non ti puoi muovere Aspetta è perfetto Faccio vedere che è completamente congelato Prima zona fatta Seconda Prozen crevasse ragazzi è questa Quindi seconda zona della mappa è questa Arian viene Sarà il molo Adesso partiamo alla seconda zona C'è la Crepaccio ghiacciato Forse dovrei aumentare un po' il microfono Prima zona ragazzi è fatta Mauri ha colpello Mauri vieni qua Mauri non vieni Io ancora non mi sono congelato Ok Certa zona Laguna Che è questa Passatevi qua Scrivi in mezzo così lo zone Vi ci metto un po' State fermi così vi ci metti a D2 Sì ci mettete in meno scusate Oh mamma Mi sto ghiacciato le palle Meglio muoversi Benissimo ragazzi venite alla prossima questa Quando se te mette la cloce rossa no Vieni qua Eh fino a quando non ti dà pigli al lisi La quarta zona l'avrete sotto lo scivolo Sotto la grotta appunto di ghiaccio Qua ragazzi qua venite qua sotto che vi è congelato Andiamo in mezzo all'acqua così ci sbrighiamo Da dove siamo adesso Siamo di lato Ok ci sono Congelato Dovete notare benissimo che quando siete congelati Vi bloccherà le gabbe Gamba destra Benissimo Poi ragazzi allora Questa devi specificare Che si può fare sia in questa zona Sia in questa pozza Che nella pozza che sta qua Ok ragazzi Noi facciamo la qua Perché è collegato Però fate qua Da più probabilità di Congelamento qua Va bene Quindi decidete voi Se partite congelare in qui Fanno l'altra posta Allora con questa location Questa location Mettiti qua Quando ti dà stiva di carico Quando ti dà stiva di carico E sono diverse location in cui farla Vieni qua Vieni qua Ari vedi sulla scritta stiva di carico Sono molte zone per fare Per fare questo Perfetto Poi l'altra location è qua Il sentiero nascosto Il sentiero nascosto E' la E' l'altra location Ora Siamo arriva che è la settima Mi sembra In totale sono dieci Sì Noi non c'entrano Non c'entrano Ok attenti Eh Cosa è stata Ok Mauro Non è stato semplice Procurarsi il suo libro No No mi sta congelando Eh vai qua Ok 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 No Mauro è fatto Soperto Non chilate più Non chilate più Ok E vi siete già congelati lì? Il sentiero sommerso Già non l'abbiamo fatto Sì Il sentiero sommerso Non l'abbiamo fatto Ok Venite qua Venite sotto Ok No L'ultimo forse Girate No Non è l'ultimo L'ultimo è spiaggia Ok Questa è fatta Mentre è fatta voi? Io non mi sono 10 Ok E l'ultimo è spiaggia Quindi venite su No 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 Vateli Ok La spiaggia è l'ultimo posto Dove farvi congelare L'ho fatto Ok Non ci credo No aspetta No aspetta No aspetta frate No No Non mi sembra che dobbiamo interagire Ok ragazzi Una volta che siete pronti Vi raggruppate e preme tutti e quattro quadrate Allora stai attento Stai attento a questa parte devi farla sentire quando dice Don Freeze Quindi Metti un attimo ragazzi quanti silenzii ok 3 2 1 Non congelati Ok Modalità congelamento raga Ci hanno chiuso le altre parti della mappa Possiamo restare solamente qui a morire Ok Bene ragazzi siamo già partiti GG Ok Ottimo Oh arien arien fai la foto e mandala sul gruppo E poi e poi dire No già mi sono buon giavato E poi devi dire hashtag world record Hashtag world record Pensavo mi stuprassero ma non ho ancora stuprato Oddio Bravo Ho detto Lo ho detto Mi stavano violentando Aiuto Scusa ma tutto chi se qua? Ma guarda i bug che succede Poi pure Poi pure Poi pure Poi pure Poi Poi Bra ma round 200 è imbarazzante Imbarazzante Bra ma man mano è tolto 200 bossa mi tolgono Aspetta che c'ho la katana Non la prende Oh si Si fra Se lo completiamo Immaginati se lo completiamo Ma non lo completeremo mai Come lo vuoi completare? Con le mani fra Non lo so Noo le istante ci dovevamo portare Se dovevamo soppervi Ah vabbè Fermo fermo ti copro Ti copro Vai 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 mauri Vai mauri vieni vieni Smetti di fregnare cervellone Questo Lascia cazzo cazzo Ma rega Avete preso la decisione giusta signore Perché ti conge la casa fa un culo Merda rega Ci distruggono fra Con 50 di vita No da morto Madonna fra Quanto danno Quanto danno Ma qua ci volevano le Le grandi team di Samantha Anzi però non ti tritano così tanto Vabbè sarà un po' fragilizzato Non è Zeus è shotta ancora Vabbè quello è obbio Vai ragazzi Vai ragazzi Vedete qua Uso la katana Madonna fra Mi stanno sciogliendo fra Io non ho fatto una kill Adesso dove lo trovo Un altro scudo Mi congela Non mi congela A caso Mi congelo A caso Madonna Non si potrebbe fare Morda Sono morto Vai No mauri Cazzo Oh fra Porco Non c'è manco il quick Non c'è manco il quick Non c'è il quick Cazzo Ma cosa è in bolo Mi hanno preso in bolo Ragazzi mi sa che devo farmi il round a 100 da solo Ce lo puoi fare Finché non finisce le mani Va a fare in culo Mi sono rotto il cazzo Mi distruggono Oh fra ma che cazzo Ho fatto gioco Ti colpiscono Non si sa come Mi stanno violentando annalmente Fra è uno stupro Li denuncio a forum Li denuncio Cos'è che forse mi puoi curare? Fra ho zero colpi Ho zero colpi del No è un giallo scudo Non mi puoi curare Senza scudo Senza scudo non mi puoi curare Niente fra mi sa che è proprio finita È finita Non ha più colpi dello Zeus Ah però in singolo si può fare Se ce la giro Ci vado di poco del variety Infatti in singolo secondo me Se ce la cominci a girare così si può fare Se continui a saltare forse Ciao Ciao Che bello Che gioco fatto di merda Sei sopravvissuto per 199 round Che cazzo vuol dire Quanto vuol dire Sei sopravvissuto per 199 round Bellissimo raga Quindi raga può essere che farò un futuro video dove tenteremo a superare questo round 200 Per ora vi lascio Per ora vi lascio il tutorial Tentateci un po' voi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate Un saluto da Gary Bella ragazzi Ci becchiamo un prossimo video Bella Ho fatto un livello Sì Ho sprecato più Ilgabile Gandhiaz Grazie a tutti.